Dopo una notte di balli degli americani abbiamo fatto il nice a tazza alle 10 e mezza con pasticceria, poi sono venuti in questo posto, lontanissimo, circa 40 km da casa mia, come vedete è pieno di mulla, non c'è nessuno in pista, nessuno, uno, pista perfetta, una giornata morale, morale, no tribù. Allora l'anno scorso era l'8 di aprile Foroni, 8 marzo ed eravamo tu ritornato da due giorni, quest'anno sono tornato da tre giorni, siamo ancora al baldo pieno di nera, bellissima, sta diventando una tradizione. Scusa abbiamo parcheggiato, quanto abbiamo fatto dal parcheggio degli impianti? 9 metri e 60, tu sei già giunto i 60 perché abbiamo fatto, non volevo sporcare le gomme. Comunque è pieno di gente, domenica ci saranno ben 20 persone. Ma perché è arrivato il pulmino, durante il pulmino poteva sembrare l'impianto chiuso. Ragazzi guardate che nevamento, che pista. Ah è mezzogiorno, abbiamo fatto il pomeridiano perché giornata no tribus, poca spesa, molta resa. Cifro folle 17 euro. Allora questo bilancio è il bilancio dell'anno? Beh se l'anno va come oggi sarà un gran anno, speriamo che sia... Mica tanto non c'è un cane. No no nel senso come no tribus, come no tribus. Come no tribus direi che è notevole. L'importante è non tribulare, dopo... Va bene, a dopo. Se i soldi finiranno, finché c'è vita c'è speranza. Questa è una grande cosa. E' un po' di quanto si riuscita. E' una sola foglia. E' una domanda. È un po' di quanto si riuscita una cosa, che è proprio la base che ha fatto. Giornata non tributi Massimo guadagno, minimo spesa Ahahahah Sicuramente c'è anche da bere Poi vado D'andate, andate, andate andate Dovete andare dove va a Forone Io vedi C'era anche il dolce C'è Ciliegine sulla tosca La guida è Forone Forza buona Forone ha un appunto da fare sul menu offerta macca Sì, tutto buono, tutto bello, tutto economico Però cavolo, ci può dopo un pranto così non darci il caffè con la grappa Senta Sarà per... Però anche l'acqua l'hai scroccata Sarà per la prossima Slavina E anche il caffè è una bomba Sera e sere giornata nutriente Vai Allora Lo stress più grande di questa giornata E' L'enorme strada che devo fare per arrivare lì Fatto per il lungo viaggio Ho detto che erano 9 metri Ognuno si spessi alla canna Va a sciar Caro e rilassate Così il codo va avanti Non c'ho dato più di penne Eh lo pagherò